Abbandonata dai genitori in tenerissima età, cresce in una famiglia dove però non trova pace. Poi incontra Luca, l'uomo della sua vita, che però quattro giorni prima del matrimonio muore. Da quel momento giura a Dio vendetta. Finisce in una setta satanica, dove per diventare sacerdotessa accetta l'incarico di uccidere Chiara Mirante, la fondatrice di Nuovi Orizzonti. Il piano diabolico però fallisce sull'uscio della comunità. A farle cambiare idea e vita sarà un abbraccio inaspettato, grazie al quale ritornerà lentamente a Dio e nella Chiesa, grazie anche ad una lettera dell'allore prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Joseph Ratzinger. È la storia drammatica e straordinaria di Mariangela Calcagno, raccontata in un libro dal titolo Sono Rinata, edito dalla Shalom, che la stessa protagonista presenterà domani sera, con inizio alle ore 21, a Fano, alla collina del Rosario, sulla strada per Monte Giove, con ingresso libero. Quella di Mariangela è stata una vicenda a tratti crudele, apparentemente senza via d'uscita, con un epilogo di distruzione e morte, ma dove tutto sembrava perduto ad un tratto entra la luce, con la misericordia e l'aiuto di Dio. Mariangela trova così la forza di reagire per uscire da quell'inferno dove era precipitata. Infine la rinascita, con una nuova vita, tra alti e bassi, una storia struggente, commovente, ma piena di speranza, che Mariangela Calcagno racconterà domani sera al pubblico di Fano.